Alle tradizionali grandi case di accoglienza per pellegrini presenti in terra santa se ne da poco aggiunta una è la casa dei pellegrini di magdala 160 camere doppie vicino ad un parco archeologico visitato ogni giorno da oltre 1500 persone sulla sponda occidentale del lago di tiberiade un complesso gestito dai legionari di cristo davvero imponente costruito nel luogo in cui nacque e visse maria di magdala la cui apertura è stata festeggiata con una grande festa credo sia il primo di questo millennio e a magdala quindi è un luogo che ha molto a che vedere con le donne con le mamme con le nonne con tutte le donne del mondo e ringrazio tanto anche tante tante persone generose che hanno collaborato come volontari come benefattori come artisti tra questi maria fernandez ortiz che ha dato l'impronta artistica complessiva della struttura l'idea è stata quella di creare un concetto urbano nella nuova casa per pellegrini per questo ho progettato questa fontana che si chiama fonti di acqua viva dove l'attenzione è puntata sulla trasparenza dell'acqua abbiamo l'acqua che arriva dal basso dal sottosuolo l'opera culmina nel mosaico che rappresenta la galilea è stato creato con quasi un milione e mezzo di tessere piccole pietre naturali ognuna con il suo colore provenienti da diversi paesi e continenti l'idea e il culmine di questo concetto urbano è quella di invitare i pellegrini turisti e tutti coloro che vengono qui a conoscere la terra di gesù ma anche ciò che c'era prima di gesù insomma un'idea di trasparenza verso la storia dell'ebraismo e del cristianesimo da parte della chiesa locale ma non solo è sempre più importante l'impegno sul fronte dell'accoglienza dei pellegrini in terra santa il cui numero continua a crescere quando uno viene per prima volta a conoscere questi posti è sempre un'emozione molto grande molto molto grande è quello che è questo complesso perché ha tutto per per fare giorni di di ritiro spirituale di meditazione questi posti sono da molta importanza per la chiesa non solo da oggi ma dal tempo di san francesco e adesso abbiamo un posto di più molto molto importante questa è la gioia di questo giorno questo è un segno che insomma non siamo ancorati al passato di quello che si è sempre fatto siamo aperti anche alle nuove forme di accoglienza del pellegrinaggio io spero che tutti coloro che vengono qui a magdala possono incontrare insieme alle belle pietre anche la testimonianza del cristo risolto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti